E' aperta fino al 16 ottobre nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris la mostra Progetti di installazioni per le città d'Europa Torino-Milano, organizzata con l'associazione Arte per Tutti di Ivrea in occasione dell'Expo 2015. In esposizione progetti di installazioni concepiti da artisti piemontesi come simbolici tradugnion creativi per nuove forme di scambio e di economia tra le due città. Lo scopo di questa iniziativa è valorizzare dei percorsi intorno all'arte contemporanea, quindi l'arte contemporanea nella forma specifica, nella sua espressione specifica dell'installazione che trovandosi spazi pubblici ed avendo molte somiglianze nei diversi paesi europei può essere un forte elemento di dialogo e di integrazione tra le grandi differenze culturali che oggi attraversano la comunità e i nostri paesi in generale, i nostri territori. In più questo progetto intende promuovere anche i territori locali, i paesaggi attraverso la valorizzazione delle opere e di tutto quello che riguarda il patrimonio culturale locale. Il mio contributo è una pietra cervello. Questo discorso installativo per me parte dall'installazione Zero, cioè da Septem, questa cittadina romana in cui c'erano parecchi migliari. Allora ho pensato di trasformare questo pietrone che segna comunque chilometri e distanze e portarlo in una pietra cervello, di modo tale che comunque ogni mia installazione in ogni città fosse caratterizzata da questa presenza di questa pietra alla quale io do vita, chiamandola pietra cervello. Grazie.